Usa parole molto chiare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per parlare di immigrazione. Dalla capitale polacca Varzavia, dove in visita ufficiale sprona l'Europa a fare molto di più e a superare una normativa sui migranti e la loro accoglienza che definisce preistorica e non più adeguata all'attuale momento storico. Il riferimento è al Trattato di Dublino, vecchio di oltre 30 anni e ideato alla fine degli anni 80, quando le proporzioni di queste immigrazioni di massa non erano neanche ipotizzabili. Quanto sta accadendo attualmente richiede che il problema venga affrontato a livello europeo perché l'Unione può farlo con un'azione coordinata. Serve una nuova politica di asilo, superando regole che sono ormai vecchie, ha detto ancora Mattarella dopo un lungo colloquio con il Presidente Polacco Duda. Un monito, quello del Capo dello Stato, che arriva proprio mentre il decreto Cutro, il provvedimento per la gestione dei flussi migratori, varato dal Governo subito dopo il tragico naufragio sulle coste calabresi che provocò oltre 90 vittime, a proda in Senato tra mille polemiche e senza il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Agenda ancora fitta di appuntamenti per Mattarella in Polonia, oggi l'incontro con il primo ministro polacco e i presidenti di Camera e Senato. Nel primo pomeriggio l'arrivo a Cracovia, poi la visita al campo di concentramento nazista di Auschwitz, accompagnato da alcuni studenti e da Andra e Tatiana Bucci, sorelle sopravvissute alla Shoah.